volete una finestra che vi faccia risparmiare oggi o guadagnare domani come sarà il nostro futuro dipende da noi dai nostri comportamenti dalle nostre scelte anche quelle che riguardano la qualità energetica della nostra casa pensando a come deve essere oggi una casa proiettata nel futuro di cui giovanni ha creato new life new life non è un semplice infisso ma un sistema che coinvolge tutto il foro finestra dal cassonetto alla soglia garantendo il massimo dell'efficacia per il vostro benessere e per quello del vostro portafoglio meno dispersione di calore più risparmio energetico e quindi più guadagno economico con new life scoprirete che quello che sembra un costo si trasforma in breve tempo in un ottimo investimento e i nostri consulenti sono pronti a dimostrarvelo grazie all'investment calculator un software esclusivo in grado di calcolare in modo preciso e personalizzato il risparmio e quindi il guadagno in termini di costi per il riscaldamento new life di cui giovanni il futuro della vostra casa passa di qui riscaldamento new life di cui giovanni il futuro della vostra casa passa di qui riscaldamento new life di cui giovanni il futuro della vostra casa passa di meriva gli altri figuri e le loro riscaldamento nuovo a tutti i nostri spettatori i nostri spettatori